ciao a tutti benvenuti su amico pc oggi vogliamo parlarvi di come utilizzare whatsapp sul computer il metodo che vedremo oggi non è un metodo illegale o meglio non è considerato tale da parte di whatsapp per cui non rischierete un ban non si tratta di utilizzare whatsapp con un emulatore blue stack o qualsiasi altro emulatore oppure attraverso software come air droid 3 ma di un metodo molto molto semplice intuitivo funzionale ma purtroppo a pagamento beh stiamo parlando di un euro ogni sei mesi quindi non è non è poi molta la spesa avete comunque la possibilità di provare il servizio per tre giorni gratuitamente e decidere se abbonarvi oppure no come funziona whatsapp remote desktop in altre parole è un sito online un servizio trovate il link in descrizione che consente di accedere a tutte ripetiamo tutte le conversazioni di whatsapp presenti sul vostro dispositivo android ios windows phone e così via dicendo l'utilità diciamo di questo servizio risiede nel fatto che è possibile tenere sotto controllo due o più conversazioni simultaneamente sulla sinistra abbiamo l'elenco dei contatti sulla destra invece abbiamo le conversazioni aperte come funziona il software per prima cosa dovete visitare il sito che trovate in descrizione e loggarvi con il vostro account google lo stesso che utilizzate sul vostro dispositivo android dopodiché recatevi sul play store se utilizzate chiaramente un dispositivo android e scaricate l'applicazione avviate l'applicazione effettuate la registrazione che ripetiamo è gratuita per tre giorni dopodiché non dovrete far altro che avviare l'applicazione accedere a questo sito per tenere sotto controllo le conversazioni whatsapp e quindi chattare direttamente dal vostro computer se deciderete di abbonarvi il costo è di 99 centesimi quasi un euro ogni sei mesi con la possibilità di rinnovarlo automaticamente oppure pagare manualmente ogni sei mesi quell'euro ci auguriamo che questo video sia stato di vostro gradimento invitiamo a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti a lasciare un commento se avete dubbi suggerimenti chiarimenti o altro e a cliccare sul mi piace ciao a tutti al prossimo video da amico pc ciao a tutti